Quest'ultimo tratto è un richiamo al conflitto nel quale Kafka si dibatte e si spezza. Ha una professione, una famiglia, appartiene al mondo e deve appartenergli. Il mondo dà il tempo ma ne dispone. Il diario, almeno fino al 1915, è cosparso di notazioni disperate in cui ricorre il pensiero del suicidio perché il tempo gli manca. Il tempo, le forze fisiche, la solitudine, il silenzio. Senza dubbio le circostanze esterne non gli sono favorevoli. Deve lavorare la sera o la notte. Il sonno ne è turbato. L'inquietudine lo spossa, ma sarebbe vano a credere che il conflitto avrebbe potuto sparire grazie a un'organizzazione migliore delle cose. Più tardi, quando la malattia gli dà quel tempo che prima gli mancava, il conflitto rimane, si aggrava, cambia forma. Non ci sono circostanze favorevoli. «Anche se si dà tutto il proprio tempo all'esigenza dell'opera, quel tutto non è ancora abbastanza, perché non si tratta di consacrare il tempo al lavoro, di passare il proprio tempo a scrivere, ma di passare in un altro tempo in cui non c'è più lavoro, di avvicinarsi al punto dove il tempo è perduto, dove si entra nella fascinazione e nella solitudine dell'assenza di tempo. Quando si ha tutto il tempo, non si ha più tempo e le circostanze esteriori, amichevoli, sono diventate questo fatto non amichevole, che non ci sono più circostanze. A Kafka occorrerebbe più tempo, ma gli occorrerebbe anche meno gente. La gente è, in primo luogo, la sua famiglia, della quale difficilmente sopporta la costrizione, senza mai potersene liberare. Inoltre, è la sua fidanzata il suo desiderio essenziale di adempiere alla legge che vuole che l'uomo realizzi il proprio destino nel mondo, abbia una famiglia, dei figli, appartenga alla comunità». Qui, il conflitto, prende un'apparenza nuova, entra in una contraddizione, che la situazione religiosa di Kafka rende particolarmente forte, quando, a proposito del fidanzamento concluso, rotto, riallacciato, con FB, Egli esamina, instancabilmente, con una tensione sempre più grande, tutto ciò che è pro e contro il mio matrimonio. Urta sempre contro questa esigenza. La mia unica aspirazione e la mia unica vocazione è la letteratura. Tutto ciò che ho fatto non è che un risultato della solitudine. E allora io non sarò mai più solo. Questo no. Questo no. Durante il suo fidanzamento a Berlino ero legato come un criminale. Se mi avessero messo in un angolo con vere catene, congendarmi davanti a me non sarebbe stato peggio. Ed era il mio fidanzamento, e tutti si sforzavano di portarmi alla vita, e non riuscendovi di sopportarmi com'ero. Poco dopo il fidanzamento si scioglie. Ma l'aspirazione resta il desiderio di una vita normale, al quale il tormento di aver ferito qualcuno che gli è vicino, dà una forza lacerante. È l'eterna questione di Abramo. Ciò che è richiesto ad Abramo non è soltanto di sacrificare suo figlio, ma Dio stesso. Il figlio è l'avvenire di Dio sopra la terra, poiché è il tempo la vera terra promessa. Il vero e solo soggiorno del popolo eletto e di Dio nel suo popolo. Ora, sacrificando il suo unico figlio, Abramo deve sacrificare il tempo, e il tempo sacrificato non gli sarà certamente reso nell'eternità di un altro mondo. L'aldilà non è nient'altro che l'avvenire, l'avvenire di Dio nel tempo. L'aldilà è Isacco. La prova per Kafka è resa più pesante da tutto ciò che gliela rende più lieve. Che sarebbe la prova di Abramo se, non avendo figli, gli fosse tuttavia richiesto il sacrificio di questo figlio? Non lo si potrebbe prendere sul serio, si potrebbe soltanto riderne. E questo riso è la forma del dolore di Kafka. Il problema è dunque tale da sottrarsi e sottrae nella sua indecisione colui che cerca di sostenerlo. Altri scrittori hanno conosciuto conflitti simili. Holderlin lotta contro la madre, che vorrebbe vederlo diventare pastore. Non può legarsi a un compito determinato. Non può legarsi con colei che ama, ed ama proprio colei con la quale non può legarsi. Conflitti che egli sente in tutta la loro forza e che in parte lo spezzano, ma non mettono mai in causa l'esigenza assoluta della parola poetica, al di fuori della quale, almeno dal 1800, egli non ha già più esistenza. Per Kafka tutto è più confuso perché cerca di fondere l'esigenza dell'opera e l'esigenza che potrebbe portare il nome della sua salvezza. Se scrivere lo condanna alla solitudine, se fa della sua esistenza un'esistenza da scapolo, senza amore, senza legami, se tuttavia scrivere gli sembra, spesso e per molto tempo, la sola attività che lo potrebbe giustificare, è perché, in un modo o nell'altro, la solitudine è una minaccia dentro e fuori di lui. La comunità non è più che un fantasma e la legge che parla ancora in essa non è neppure la legge dimenticata, ma la dissimulazione dell'oblio della legge. Scrivere gli diviene allora, in seno all'angoscia e alla debolezza da cui questo movimento è inseparabile, una possibilità di pienezza, un cammino senza scopo capace di corrispondere, forse, a quello scopo senza cammino che è il solo che bisogna raggiungere. Quando non scrive Kafka è non soltanto solo, solo come Franz Kafka dirà a G. Janosch, ma è solo di una solitudine sterile, fredda, di una freddezza piattrificante, che egli chiama inebettimento e che sembra essere stata la grande minaccia che egli ha temuto. Persino Brod, così sollecito nel fare di Kafka un uomo senza anomalie, riconosce che era talvolta come assente o come morto. Molto simile ancora a Olderlin, al punto che tutti e due, nel compiangere se stessi, adoperano le stesse parole. Olderlin, sono intorpidito, sono di pietra. E Kafka, la mia incapacità di pensare, di osservare, di rilevare, di ricordare, di parlare, di fare esperienze insieme con gli altri, aumenta sempre più. Devo confessare che divento di sasso. Se non mi salvo con un lavoro, sono perduto. 28 luglio 1914 Grazie a tutti. Grazie a tutti.